Saranno garantiti per 5 settimane i centri estivi del comune di Ifano disponibili per 120 bambini tra silinido e scuole dell'infanzia. Anche quest'anno verrà garantita la massima sicurezza per contenere il rischio di contagio. Ad assicurarlo è stato l'assessore alle politiche educative, Samuele Mascarin, che ha presentato l'iniziativa insieme alla responsabile del coordinamento pedagogico, Gisella Fabri. L'attenzione infatti verrà posta sia durante l'accesso sia all'interno degli spazi, dove i gruppi di bambini rimarranno fissi e avranno sempre le stesse educatrici. È un quadro per i centri estivi sicuramente più sereno rispetto a quello dell'anno scorso, che era un quadro emergenziale, ma questo non vuol dire che non dobbiamo utilizzare tutte le attenzioni e le cautele e soprattutto applicare in maniera rigorosa tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria. È il motivo per il quale noi applicheremo il triage anche quest'anno sia al centro estivo nido sia al centro estivo infanzia, così come il patto di corresponsabilità scuola-famiglia e adotteremo comunque tutta una serie di azioni e di dispositivi di sicurezza proprio per poter garantire non solo alle bambine e bambini, alle famiglie, ma anche a chi lavora, il massimo della sicurezza, così come giusto e doveroso che sia. Le iscrizioni saranno aperte dal 3 al 14 maggio e le domande dovranno essere inoltrate in modalità online collegandosi al sito del comune. Inoltre ci si potrà rivolgere agli uffici dei servizi educativi contattando questi numeri di telefono. L'assessore ha precisato che potranno essere iscritti tutti i bambini e le bambine di Fano, che fino al 30 giugno abbiano frequentato sia le strutture comunali che quelle statali. I centri estivi vedranno 40 posti disponibili per il servizio di nido, quindi 0-3 anni, mentre per l'infanzia, quindi 5-6 anni, la disponibilità sarà di 80 posti. Il centro estivo nido verrà ospitato presso il nido grillo, mentre il centro estivo infanzia presso la scuola dell'infanzia Galizzi. I servizi verranno garantiti dal 5 di luglio fino al 6 di agosto.